Consentitemi però prima di concludere di evidenziare anche in questa prestigiosa sede l'accanimento distruttivo di cui Rai è vittima. Un accanimento che cerca di contrapporre a fatti, dati, numeri, risultati concreti e verificabili, come quelli che avete ascoltato e che leggerete, delle fantasiose ricostruzioni, quando non delle infamanti accuse che non solo dalleggiano la reputazione e il valore della Rai, ma che mortificano la comunità di donne e uomini che ogni giorno lavora per portare nelle case degli italiani il meglio della loro capacità. La Rai non solo non merita questo trattamento ma ha bisogno di essere protetta e difesa da fake news e costruita d'arte per screditare e ottenere qualche titolo sui giornali. L'azienda deve poter concentrare tutte le sue energie sul percorso di sviluppo che la tende negli anni a venire per restare un servizio fondamentale per il pubblico. Il centro dello sviluppo dell'industria autovisiva con fiction, cinema, documentari, una vetrina unica per il mercato musicale e infine la vita per 13.000 famiglie da cui si devono aggiungere altre migliaia di famiglie di tutto l'indotto che dipende dalla Rai. I vertici che sono dipendenti Rai hanno l'obbligo e il dovere di difendere fino all'ultimo giorno del mandato il valore e l'identità della Rai Radiotelevisione Italiana. Grazie. Però vede, dottor Sergio e dottor Rossi, quando in una democrazia una giornalista che dice non mi è stato consentito di poter far parlare un intellettuale al quale... Ma è falso, mi scusi, dottor Sergio, abbia pazienza, è falso. È la risultante, come ci insegniamo a una scuola, no? La risultante è che non ha parlato, perché è stato, diciamo, impedito tutto ciò. Ma quello che a me inquieta, guardi, non solo da deputato della Repubblica, ma da cittadino italiano, guardi, misuro le parole, sono molto preoccupato perché quando si avvia un provvedimento disciplinare è come se si mandasse un messaggio ad altri giornalisti che non condividono perché vogliono raccontare il Paese. Ovviamente poi la Rai ha tutti gli elementi di equilibrare e di dare voce e spazi a chi, ovviamente, rappresenta una posizione diversa, ma a una giornalista che ha detto, è accaduto questo, oggi non è il direttore che ha impedito di, ascurati di parlare, a cui viene avviato, non so, adesso non conosco le dinamiche, se per i direttori questo è possibile, chiedovenia sull'ignoranza nel vero senso della parola, non al direttore della fattispecie Corsini, ma alla giornalista Serena Bortone. Dottor Seggio, guardi che questo è un elemento che ci fa entrare in una situazione molto cupa dal punto di vista della democrazia nel nostro Paese. Questa è l'Italia, non siamo in altri Paesi. Io vi invito a riflettere su quello che avete fatto, è un fatto estremamente grave quello che avete fatto, anche perché, un po' di ore fa, alla Camera dei Diputati, Rai News 24 ha fatto una diretta di 46 minuti dell'intervento della Premier Meloni in un convegno. Ad Atreiu, iniziativa politica, c'è stata un'ora di diretta. A Pescara, dove ha annunciato la propria candidatura, idem. Io vorrei capire in che Paese noi viviamo. Sono andato fuori? Posso chiedere sull'ordine dei lavori, perché sennò diventa... Ma Gasparri, dai, Gasparri, sei solo capace a portarlo... Scusate, solo un attimo perché non volevo interrompere il collega. Facciamo finire il collega, ho soltanto rassicurato che seguo assolutamente il minutaggio. Lo avevamo deciso in un ufficio di Presidenza, se a piacere possiamo rivedere il tutto sempre. Facciamo una cosa, Presidente, se il problema è che Alleanza Verdi e Sinistra non può parlare con gli altri gruppi, non è un problema. Io rinuncio ai tre minuti, però mi fate parlare, d'accordo? Ai tre minuti... E quindi se la destra si sta andata tranquilla, a partire da Gasparri, che è imperversa... Onorevole Bonelli, mi scusi, mi scusi, mi scusi, perché questo è il livello di democrazia... Onorevole Bonelli, sono intervenuta... Avevo ancora un minuto e l'abbiamo interrotta, concluda. Di fronte a uno sciopero, vorrei sapere quindi, e concludo, se risponde è vero che ci sia stata un'iniziativa da parte dei vertici RAI o non so di chi, per richiamare a servizio persone, giornalisti, che erano a riposo, proprio per evitare che lo sciopero avesse, diciamo, un risultato, cosa che i dati che sono stati comunicati da Usigrai comunque sia confermano con il 75% di adesione. Grazie. Allora, sulla vicenda Scurati, partiamo dalle certezze. Non è stata vietata né la partecipazione dell'ospite né la lettura del monologo. Veniamo ai fatti. Il comunicato stampa approvato dalla direzione Approfondimento, il venerdì pomeriggio, prevedeva la partecipazione di Scurati a titolo gratuito, i biglietti di andata e ritorno dai per Milano e la prenotazione per l'arbergo, autorizzati ed annullati solo alle 13 dello stesso giorno della trasmissione, cioè sette ore prima della messa in onda e dopo che l'autore aveva deciso di non prendervi più parte. La direzione Approfondimento ha valutato di prevedere l'intervento del dottor Scurati a titolo gratuito, piuttosto che dietro compenso, ritenendolo interessato da un periodo di promozione, in uscita una graphic novel pubblicata il 7 maggio ma prenotabile dal 19 di aprile e una fiction tratta dalla sua opera. A prescindere da questo aspetto della vicenda, rileva evidenziare che non è stato mai comunque impedita né la partecipazione degli dottor Scurati, né la lettura del monologo, che è stata evidentemente poi autorizzata ed è stata rappresentata dalla signora Bortone la sera stessa, perché ha letto il monologo. Questi sono i fatti. È in chiusura un audit di cui avremo le definitive risultanze a breve. Possiamo anticipare che due saranno gli aspetti esaminati. Il primo, eventuali disallinamenti procedurali nell'itero operativo, e posso dire che sicuramente ce ne sono stati. Secondo, comportamenti dei singoli riguardo ai quali sono state tempestivamente richieste ai soggetti coinvolti in relazioni sull'accaduto. All'esito complessivo di queste doppie verifiche saranno valutate azioni migliorative dei processi e o interventi nei confronti dei dipendenti. In relazione alla polisi aziendale in tema di dichiarazione agli organi di informazione e altre forme di dichiarazioni pubbliche, possiamo anticipare, prima di vederlo pubblicato chissà come e dove, ma è già uscito, che è stato contestato dalla dottoressa Bortone, così come avvenuto negli altri analoghi casi aziendali, il post pubblicato alle 8.30 del sabato 20 aprile sui suoi profili social, l'inviolazione di detta normativa. Io vorrei ricordare che noi siamo un'azienda, siamo un SPA e quindi ci sono delle regole che devono essere rispettate da tutti i dipendenti, sia giornalisti che non giornalisti. Detta normativa vieta ad ogni lavoratore RAI subordinato o autonomo di rilasciare dichiarazioni pubbliche o comunque rese in contesti pubblici, quali social network, su attività, notizie e o fatti aziendali. Vogliamo chiarire, per evitare fraintendamenti, che questo è un atto dovuto e seguirà un iter previsto dal regolamento in relazione all'obbligo da parte dell'azienda di farsi rispettare la polisi in vicore e trattare tutti i dipendenti nello stesso modo. Questo significa che non è un provvedimento disciplinare, è una richiesta di chiarimenti e di spiegazioni che verranno valutate e poi si potrà decidere quale tipo di azione intraprendere nei confronti, se necessario oppure no, della sigla di Bortone. Quindi non è un provvedimento disciplinare. È un avvio di contestazione, è una contestazione, ma non è un provvedimento. Tenete conto che questa vicenda ha creato un danno reputazionale che coinvolge e scredita la professionalità e il lavoro quotidiano di tutti i dipendenti della RAI. Questa accusa di censura inesistente ha travolto ed ha reso trasparente quello che viene fatto, apprezzato in termini di critica, di ascolto e di gradimento. Questo è il caso Oscurati. Sono molto soddisfatto dalle risposte che ho sentito dai vertici che ringrazio per questa audizione perché hanno letteralmente e analiticamente smontato tutto un castello di bugie a cui abbiamo assistito in queste settimane. Quindi veramente grazie perché di fronte ai numeri, di fronte alla realtà, le opinioni e la narrazione delle meloni, di una propaganda, di una cosa che abbiamo sentito in questi giorni è totalmente decaduta. Quindi bene così. Sono contento, ma su questo non avevo dubbi che è caduta anche quella clamorosa fake news che ha tenuto banco nell'informazione per giorni e giorni sulla censura. non c'è stata nessunissima censura. Ebbene così, a quanto ho capito Oscurati, se voleva davvero leggere il monologo era liberissimo di farlo. Quindi credo che abbia scelto di non farlo. Per cui non c'è stata nessuna censura. Anche questo è stato smentito. Dopodiché abbiamo appreso che finalmente esistono delle regole irrai e quindi se c'è qualcuno che ha violato la polizia aziendale i vertici ne chiedono conto. Credo che questo si possa fare. Non credo che ci siano delle dispense per qualcuno che magari aderisce a determinate idee politiche e quindi non può essere nemmeno oggetto di richiesta di chiarimenti da parte dei vertici. Per cui finalmente esistono le regole irrai. Anche questa è una notizia che apprendiamo con grandissima soddisfazione. C'è il pluralismo sindacale. Anche questa mi sembra un'ottima notizia. Anche se a qualcuno probabilmente dà fastidio. E poi telemenoni non esiste. Lo hanno ricordato oggi Vertici Rai citando l'osservatorio di Pavia mi fa piacere citarlo anche a me perché mi sono divertito tanto colleghi i dati sapete benissimo che sono pubblici, sono reperibili facilmente e in merito al Tg1 mi sono soffermato su questo ho ricostruito quali sono stati nei primi 14 mesi dei governi passati quindi partendo da Renzi in poi il minutaggio medio complessivo al mese per ogni presidente del Consiglio in presenza sul Tg1 abbiamo Renzi con 37,86 minuti Gentiloni con 30,06 il Conte 1 con 23,33 il Conte 2 con 41,73 perché era il periodo del Covid quando andava in TV l'ex presidente del Consiglio a ricordare ai cittadini a spiegargli quali erano i loro diritti lo ricordiamo benissimo Draghi 19 minuti di media al mese Meloni udite udite 15,46 cioè meno di tutti per cui credo che dobbiate un attimino cambiare registro sulla narrazione che si fa della RAI di questa occupazione di telemeloni di tutte queste stupidaggini che vengono poi puntualmente smentite dai dati e che dovrete trovare questa è la notizia che do ai colleghi di opposizione altri argomenti per fare propaganda elettorale grazie grazie grazie